loro in quanto al design che è una cosa espettacolare che bello sono molto contenta da partire da che sono 4 anni che compro su QVC e attraverso QVC e attraverso tuo diciamo e Amalo Veronese e tutti gli altri grandi per la viva e tutto il resto grazie per quello, ti ringrazio e sei una persona bellissima pure per Facebook e scrivo a volte non ti portavo foto però ti scrivo o ti metto il mi piace o le tante cose grazie Norma, grazie mille noi ti mandiamo un bacio grande grande grazie mille e allora continuiamo